Con il successo della Juventus al San Paolo contro Napoli, la lotta per lo scudetto si è virtualmente chiusa. Resta invece apertissima la lotta per i due posti in Champions League ancora disponibili, soprattutto dopo la sconfitta del Cagliari e la vittoria del Milan. E intanto le Romane inseguono. Con il successo della Juventus fuori casa contro Napoli, si può dire che la lotta a scudetto si sia virtualmente chiusa, ammessa che ci sia mai stata. Quella che invece resta molto aperta è la lotta per gli ultimi due posti in Champions League, appurato che il Napoli dovrebbe comunque concludere il campionato secondo, a meno di incredibili tragedie. Invece la lotta per gli ultimi due posti per la Champions League resta apertissima. Questo perché l'Inter, che fino a un paio di mesi fa sembrava saldo al terzo posto, con la sconfitta contro il Cagliari un po' sorpresa, ha perso il terzo posto ai danni del Milan. I non sono neri invece, grazie al doppio acquisto invernale di Piontek e Paqueta, si è trasformata in una nuova squadra, una squadra capace di infilare una serie di risultati consecutivi molto importanti e di così scavalcare l'Inter al terzo posto. La squadra di Gattuso adesso sembra addirittura la favorita per il terzo posto. Questo perché, mentre l'Inter sembra essersi smarrita dopo la vicenda ai Cardi, Gattuso ha trovato invece la quadra perfetta per questo Milan, che magari non regala spettacolo ma ha una solidità difensiva impressionante, grazie anche al grandissimo rendimento di due italiani come Romagnoli e Donnarumma. A Roma invece la situazione è un po' precaria. La Roma dopo la sconfitta netta al derby contro Lazio sembra in difficoltà e in caso di sconfitta contro il Porto in Champions League questa settimana potrebbe anche saltare la panchina di Francesco. Si pensa che il sostituto possa essere Paolo Sosa, ex allenatore della Fiorentina. Insomma capite come sulla sponda giallorossa del Tevere ci sia un po' di maretta e la squadra non sta rispettando le previsioni di quest'estate dove molti vedevano addirittura la Roma lottare per lo scudetto insieme a Juventus e Napoli. E invece la squadra di Francesco sta facendo tanta fatica anche a restare agganciata al treno Champions League. Resta agganciata al treno Champions League la Lazio grazie al successo nello scontro diretto contro la Roma nel derby. Anche se la Lazio è adesso a sei punti dall'Inter che è al quarto posto è vero la Lazio ha una partita da recuperare contro l'Udinese ma non è proprio una passeggiata a battere l'Udinese e quindi bisogna vedere. E anche battendo l'Udinese insomma il gap sarebbe sempre di tre punti. È però vero che la Lazio delle squadre in lotta per la Champions League è l'unica ad aver già giocato due volte contro Juventus e Napoli e quindi questo potrebbe fornire un vantaggio andato avanti. La squadra di Simone Zaghi dopo un'incredibile epidemia di infortuni specialmente in difesa sembra essersi ritrovata e nel derby ha fornito una buona prova però una rondine non fa primavera come si suol dire e quindi è troppo presto per dire se la squadra di Zaghi si è veramente ritrovata o se questo è stato solo un episodio così. Sicuramente il test prossimo del prossimo weekend contro la Fiorentina ci darà maggiori indicazioni. Resta agganciata al treno Champions League a Fiorentina? Beh insomma dopo la sconfitta contro l'Atalanta la squadra di Pioli rischia di aver perso il treno. Sarà importante la prova contro la Lazio però insomma la squadra di Pioli è molto giovane sicuramente molto talentuosa ma quest'anno abbiamo visto la Fiorentina fra alti e bassi e per raggiungere la Champions League ci vuole quella continuità di risultati che la squadra di Pioli non ha mai messo in mostra. Discorso simile si può fare per l'Atalanta che forse non ha la rosa delle altre squadre che lottano per la Champions League ma sta dimostrando un calcio impressionante anche contro la Fiorentina l'Atalanta ha giocato benissimo il problema è che la rosa non sembra all'altezza Gasperini è stato molto onesto ha dichiarato che insomma la Champions League sembra qualcosa di troppo però l'ambizione è raggiungere l'Europa League e secondo me questa è sicuramente alla portata dell'Atalanta che tra parentesi ha anche a disposizione la semifinale di Coppa Italia in caso di qualificazione insomma chi vince la Coppa Italia si qualificherà per l'Europa League e quindi l'Atalanta spera di avere ulteriori chance considerando la Coppa Italia da non sottovalidare il Torino di Mazzarri che grazie all'allenatore ex Napoli ha trovato quella solidità difensiva che magari non aveva negli anni scorsi e anche se non regala un calcio spettacolare riesce a trovare la via del gol anche grazie a un belotti ritrovato e quindi è una squadra sicuramente da tenere in considerazione un po' come l'Atalanta non credo che il Torino abbia la rosa adatta per lottare fino alla fine per la Champions League ma sicuramente per un posto in Europa League è comunque una squadra ossica da battere per tutte le pretendenti alla Champions League che dovranno affrontare il Torino nelle prossime giornate insomma se al momento dovessi stilare la mia classifica io vedo il Milan favorito per il terzo posto l'Inter che deve risolvere i problemi cardi perché è vero che la decisione della società di togliere la fascia da capitano Icardi ha ricompattato il gruppo ma è altrettanto vero che l'Inter non ha un'alternativa non c'è un altro centravanti che può ricoprire il ruolo di Mauro Icardi abbiamo visto addirittura come nelle ultime partite Luciano Spalletti sia stato corsetto a schierare la nocchia centravanti negli ultimi minuti delle partite alla ricerca di un centravanti forte di terza che possa buttarla dentro questo segnala come l'Inter sia disperata e quindi come sarà importante recuperare Mauro Icardi perché siamo appena all'inizio di marzo ci sono ancora tantissime partite e non credo che l'Inter possa farcela se non recupererà Mauro Icardi questo perché l'Inter non ha a disposizione un centravanti della qualità di Mauro Icardi in rosa e quindi stare senza Icardi fino alla fine del campionato sarebbe un rischio troppo grosso per l'Inter che fino a qualche mese fa era la favorita per la qualificazione per il Champions League addirittura secondo me per il terzo posto e adesso rischia di perdere anche il quarto posto dipenderà molto dal rendimento delle Romane che sono le avversarie più vicine all'Inter però abbiamo già detto della Roma che rischia di affondare in caso di eliminazione in Champions League e la Lazio troppi alti e bassi in queste ultime partite vedremo se il derby darà la scossa più caratteriale che di rendimento perché la Lazio ha sempre giocato abbastanza bene ma nei momenti decisivi è crollata vedremo se questa vittoria al derby cambierà un po' le carte in tavola ripeto, il Milan se non succederà qualcosa è per me la favorita numero uno seguita dall'Inter ma staremo a vedere la lotta è apertissima vedremo che cosa succederà nelle prossime partite grazie